questo è un danno di curati lo sape mettermi addosso 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 hai capito? adesso lo sapevo andare andiamo via dai il ragazzo è un ragazzo non sono ragazzo non sono ragazzo non sono ragazzo i carabineri i carabineri i carabineri i carabineri per che non fai qua? i carabineri numero? Capitano? Sono quasi uguali, eh? Sei un collone